I Gallicchiesi alla Grotta del Turco, questa è una turca napoletana, Maria Angela, il capo nostro, Mimmo Dens, una tua citazione ci andrebbe qua, Mimmo, un tuo pensiero qua, alla Grotta del Turco. Sì, 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 dai, Mimmo, vedete qua, vedete qua, citazione, di Mimmo, Mimmo fa una citazione, mettete qua Mimmo così ti inquadra, è un po' che è pessimista, allora dice, sta citazione di Mimmo un attimo, Mimmo, allora, la vita è un miraggio, la morte è una certezza, breve, la citazione è breve, commenti niente, va bene, senza commenti, non commentiamo più, guarda qua, ci saranno pure i depositi, stango il nostro Micheluccio, Tognetta, il grande presidente di Riggiano, il nostro dottor Cagliazzo.